Prodomix Prodomix è un'azienda che faccio nascere assieme a mio padre nel 2000 e il nome è quello che noi facciamo praticamente, produzione, dosaggio e miscelazione. Partiamo con un'officina meccanica che si specializza nella produzione di dosatori volumetrici di polvere e di agitatori verticali. Gli agitatori verticali sono delle macchine che possono essere impiegate in moltissimi mercati laddove ci sia la necessità di miscelare liquido con liquido, liquido con polvere. A seconda dei processi richiesti dall'applicazione, dal mercato, l'agitatore cambia potenza, numero di giri, tipo di girante. È proprio in questo che noi entriamo e ci mettiamo la nostra competenza e il nostro know-how per riuscire a risolvere i problemi richiesti dai clienti. Tra i principali settori in cui Prodomix è presente troviamo appunto il trattamento delle acque. Fin da subito è stato il nostro core business. Siamo all'interno del trattamento delle acque anche perché abbiamo tutta una serie di giranti che sono particolarmente adatte al trattamento delle acque e che sono state studiate per poter portare efficienza all'interno del processo nell'impianto di trattamento. Negli ultimi anni l'export di Prodomix è aumentato molto, soprattutto in certe parti del mondo come Medio Oriente, Australia e Sud America e abbiamo bisogno di prodotti tipo motori appunto che si vanno ad adottare perfettamente alla certificazione richieste di questi tipi di paesi in fase di appunto di volt, hertz e altitudine sul livello del mare. Negli ultimi mesi abbiamo avuto una commessa di una certa entità dalla Colombia per un impianto di depurazione e per assolvere a tutti le richieste date dal cliente abbiamo preferito inserire dei motori ABB e dei riduttori Dodge ABB per poter agevolare il cliente anche in una fase di possibile ricambistica nei prossimi anni. Abbiamo scelto e continuiamo a scegliere ABB per l'efficienza e la qualità del prodotto e per la vicinanza del rivenditore che in questo caso ci ha agevolato nella documentazione soprattutto in commesse come queste dove la documentazione cartacea del motore e del riduttore sono parti importanti della commessa.